e qui dovete fare i nostri primi pezzi facciamo uno dei nostri primi pezzi facciamo un pezzo di Credence va bene Giulia? Credence per Water Revival chi non li conosce? il gruppo con il nome più lungo del mondo vorremmo fare la vita in questo modo non lo faccio, non lo faccio non lo faccio, non lo faccio come back down with blue better food let me remember things on earth Grazie a tutti 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 Giuliano Donzoni e Batteria Uno di noi Grazie a tutti